«Non lo so», rispose Roberto. «Visto che la fila non finisce mai, probabilmente otterremo un numero infinitamente grande. D'altra parte però un quarto è meno di un mezzo, un ottavo è meno di un quarto e così via. Quindi quello che aggiungo è sempre più piccolo». I numeri scomparvero dal soffitto. Roberto fissava il soffitto ma vedeva solo una lunga linea. «Ah», disse dopo un po', «forse ho capito». Si inizia con un mezzo, poi si aggiunge la metà di un mezzo, dunque un quarto, e quello che diceva comparve subito nero su bianco. E continuo, così aggiungo sempre la metà, la metà di un quarto e un ottavo, la metà di un ottavo e un sedicesimo, e così via. I pezzetti diventano sempre più piccoli e poi finiranno per essere così minuscoli che non potrò più vederli, un po' come con il chewing gum diviso. «E posso continuare così finché il campo. Arrivo quasi fino a uno, ma mai del tutto. Invece sì, devi solo andare avanti fino alla nausea». «Non ho nessuna voglia, e poi sono a letto con l'influenza». «Comunque», aggiunse il vecchio, «adesso sai come prosegue e che risultato si ottiene?» «Perché tu magari ti stanchi, ma i numeri no, non si stancano mai». Dal soffitto era scomparsa la linea, c'era invece scritto un mezzo, più un quarto, più un ottavo, più un sedicesimo, più un trentaduesimo, più un sessantaquattresimo, eccetera, 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 uguale a uno. «Stupendo», esclamò il mago, «eccellente. Adesso avanti. Sono stanco, devo dormire. Si può sapere che cosa vuoi, che sei il vecchio? Stai già dormendo». «In fin dei conti mi stai sognando, e sognare si può fare solo nel sonno». Roberto dovette dargli ragione, anche se aveva ormai la sensazione che il suo cervello iniziasse ad avere i crampi. «Va bene», disse. «Ancora una delle tue, poi mi lasci in pace». Il mago alzò la sua pacchetta e fece schioccare le dita. «Sul soffitto apparevano altri numeri. Un mezzo, più un terzo, più un quarto, più un quinto, più un sesto, più un settimo, più un ottavo, più eccetera, eccetera, uguale a...» «Lo stesso di prima», disse Roberto. «Anche questa fila posso sommarla finché voglio. Ogni nuovo numero è più piccolo di quello che lo precede. Alla fine probabilmente avremo di nuovo uno». «Dici?» «Sarà meglio dare un'occhiata da vicino. Prendiamo i primi due numeri. Adesso sul soffitto c'erano solo i primi due elementi della fila. Un mezzo, più un terzo. Quanto fa?» «Propotto Roberto. Non lo so. Non fare il furbo con me. Sarà più il mago. Cos'è di più, la metà o un quarto?» «La metà, naturalmente». Mi spose Roberto stizzito. «Non sono mica scemo». «Lo so che non lo sei, ma dimmi un'altra cosa. Cos'è di più? Un terzo o un quarto? Un terzo, naturalmente. Ci siamo. Abbiamo quindi due frazioni. Ciascuna delle quali è più di un quarto. E quanto sono due quarti? Ma che domanda, due quarti sono la metà. Vedi? Un mezzo più un quarto sono quindi più di un quarto più un quarto. E adesso prendiamo i prossimi quattro elementi e li sommiamo. Il risultato sarà ancora più della metà. Un quarto, più un quinto, più un sesto, più un settimo. Troppo difficile, proprio attore aperto. Stupidaggini, grittò il mago. Cos'è di più? Un quarto o un ottavo? Un quarto. Cos'è di più? Un quinto o un ottavo? Un quinto. Esatto. E con il sesto e il settimo è lo stesso. Delle quattro frazioni. Un quarto, un quinto, un sesto, un settimo. Ogni singolo è più di un ottavo. E quanto sono quattro ottavi? Quattro ottavi sono esattamente un mezzo, rispose Roberto Controvoglia. Stupendo! Adesso abbiamo un mezzo più un terzo, più di un mezzo. Un quarto, più un quinto, più un sesto, più un settimo, più di un mezzo. Un ottavo, più un nono, più un decimo, più un unicesimo, più un dodicesimo, più un tredicesimo, più un quattordicesimo, più un quindicesimo, più di un mezzo. Più un sedicesimo e così via, fino alla nausea. Come vedi, già sommando i primi elementi di questa fila, abbiamo più di uno. Potremmo continuare così se ne avessimo voglia. Ti prego, no, disse Roberto. E se continuassimo così? Ma non temere, non lo facciamo. Dove arriveremmo? Probabilmente all'infinito, rispose Roberto. Sei davvero magico. Però ci vorrebbe un bel po' di tempo, spiegò il mago. Prima di arrivare a mille impiegheremmo, come se fossimo veloce a calcolare, fino alla fine del mondo, perché la fila cresce molto lentamente. Meglio lasciar perdere, disse Roberto. D'accordo, lasciamo perdere. La scritta sul soffitto svanì piano piano. Il vecchio maestro scomparve senza fare rumore e il tempo passò. Roberto si svegliò perché il sole li faceva solletico al naso. Quando sua madre toccava la fronte, toccandoli la fronte, disse Grazie al cielo la febbre è scesa. Aveva già dimenticato che scivolare dall'uno all'infinito è facile, facile, ma per farlo ci vuole molto tempo. La decima notte Roberto era seduto sul suo zainetto, in mezzo alla neve. Continuava a nevicare e il freddo gli entrava nelle ossa. A perdita d'occhio non c'era una luce, una cosa, un essere umano. Era una vera e propria tempesta di neve. Ed era anche buio. Se non cambiava qualcosa, buonanotte. Mi sembrava di non sentire più le dita. E non avevo idea di dove si trovasse. Forse al polo nord? Ormai livido per il freddo, Roberto cercava disperatamente di riscaldarsi dal dosi dei colpetti. Non voleva certo morire assiderato. Contemporaneamente c'era però un secondo Roberto, che se ne stava comodamente seduto in poltrona. Gli osservava l'altro quasi ghiacciato. Si può sognare se stessi? Pensò stupefatto.